Ragazzi ho la strega notturna Lo vedete a sfondo del voletto Che quando avrò la strega notturna Se la troverò farò la sfida Quindi vi rilancio la sfida A 12.000 mi piace entro mezzanotte Io sciopperò un baule a tutti 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 coloro che avranno lasciato Un mi piace e un commento sotto questo video Quindi mi raccomando ragazzi Perché è la sfida finale Perché io adesso ho la strega notturna Quindi adesso si fa la sfida finale Dei bauli Quindi ragazzi è tutto nelle vostre mani Lasciate un bel pollice in su Perché a 12.000 mi piace Questo video secondo me li può fare E li merita Sciopperò un baule a tutti voi Mi raccomando iscrivetevi con il tasto qui sotto Attivate la campanella perché non si sa mai Ragazzi abbiamo un video davvero pazzesco davanti Quindi mangiamoci subito con il video Ma prima sigla Ragazzi ci siamo Allora ci siamo ci siamo Apriamo subito qualche baule omaggio Adesso vi spiego un po' di cose di questa sfida Inoltre volevo dirvi che ho iniziato A collaborare con un ragazzo Con un ragazzo che forse voi conoscete Che si chiama The Big Man Questo ragazzo era quello che vinceva tutti i miei tornei O quasi Io vi lascio il suo canale qui sotto Perché passare nel suo canale Vi spiego perché secondo me è un canale che merita Come merita Corby Come meritano tanti altri studio Ma io cerco di dare visibilità Alle persone che arrivo a conoscere E lui secondo me è un buonissimo top player Solo che non avendo il profilo maxato Non può arrivare in top 10 Ma secondo me Questo ragazzo con un profilo maxato Potrebbe tranquillamente finire in top 10 In top 5 Ad occhi chiusi Quindi ragazzi davvero ve lo consiglio Perché porta dei contenuti davvero Pazzeschi dal punto di vista di Di difficoltà Io non sono in grado di fare queste cose Quindi ragazzi Vi consiglio il suo canale Assolutamente Detto ciò Ok Apriamo un po' di bauli Perfetto Ragazzi Qui abbiamo la strega Allora Con questa avremo tutte le carte Nel frattempo abbiamo anche il baulo del clan Che andiamo subitissimo ad aprire Ci tiriamo via un po' di cose Cerchiamo di fare un video un po' ricco Questo giro 8 cure 67 barbe 17 giganti 126 bombaroli E 3 prince Domenica epica Vuol dire che possiamo chiedere Sapete che io non chiederei neanche le epiche Ma continuerei a chiedere I barbari scelti Che tra l'altro Non sto nemmeno usando Ma voglio portarli al 13 Perché voglio portarli al 13 A prescindere Mi sto usando dei mazzi davvero Che non stanno niente Niente in terra Però mi diverto così io Ragazzi Comunque Bat perci in chiacchiere Prendiamo la strega notturna E che la sfida E insomma Si faccia Tutto nelle vostre mani Strega notturna Sbloccata Eccola qui Strega notturna Ragazzi Sbloccata Bellissimo Davvero Super bello Ma abbiamo anche un baule Da 12 vittori da aprire Cioè Non è che è finita qua Non è che è finita qua 11.000 di oro Così Me li regalano Bravissimi 8 fornaci Un po' poche Poi abbiamo 75 frecce 83 giganti royale 12 torri bombardiere 12 capanne dei barbari 91 zap Molto buone 23 giganti 23 giganti 240 tesla Inutili E ancora prince Ancora prince Ha un baule Comunque interessante Ragazzi Adesso vi spiego Vi spiego una cosa Ciao a tutti Vi spiego una cosa Intanto metto la strega notturna Così adesso tutti mi scriveranno Ah ma l'hai trovata Alla fine Solo per questo Ragazzi adesso vi spiego Una cosa abbastanza Interessante Per quanto riguarda Questa sfida Che secondo me Dovrebbe interessarvi Ragazzi Il trucco di questa sfida Come detto Nella sfida Dei 64 mila di oro Che sono riuscito a vincere È quella Di prendere Per esempio Un tank molto grosso Come un mastino Cercare in tutti i modi Avete piazze ovvio In realtà no Perché tanti Non lo capiscono Non lo sanno Quindi prendere Il mastino La centilla Non tutti insieme Uno di questi Prendere il golem Prendere carte di questo tipo Assolutamente Se voi prendete il golem Fate di tutto Per prendere La torre infernale A costo di lasciargli La zap Lasciategli la zap Ma prendetevi La torre infernale Voi Perché se dovesse Averla lui Praticamente Vi distrugge il mazzo Non avete possibilità Di arrivare A fargli male Quindi dovete riuscire A non fargli Prendere i counter All'avversario Assolutamente Non dovete Far prendere i counter All'avversario Tanti dicono No però Io preferisco la zap Quindi prendere la zap No perché così dopo Voi dite Eh ma no Mi mette sempre Il mazzo contro No Gli hai detto tu Il mazzo contro Sei tu che hai detto La tua carta counter A lui Tante persone Fanno dei ragionamenti E vanno Dicono No preferisco la fireball Ok chiaro Ma dipende Cosa ha lui Se lui dovesse avere il rocket O tu hai delle truppe Che il rocket Lo soffrono Prenditi tu Il rocket Lascia arrivare la fireball Che fa meno danno A prescindere da tutto Quindi ci sta Ragazzi Vi faccio vedere Assolutamente L'ultima partita Che è questa qua Ovviamente avete già visto Il risultato Ma non importa Assolutamente Non importa assolutamente Perché E alla fine Basta vedersi la partita Senza problemi Allora ragazzi Qui quello che volevo dire No qui per esempio Abbiamo preso La torre infernale Per forza Perché lui Gli abbiamo lasciato Il mastino Gli abbiamo lasciato Il mastino Quindi per forza Bisognava prendere La torre infernale Altrimenti Era finita per noi Qui la stessa cosa È stato difficile Perché il gigante royale È difficile da fermare La mongolfiera È difficile da fermare Però se noi Gli avessi mandato La mongolfiera Gli avevamo fatto il mazzo Mastino mongolfiera Era già pronto il mazzo Quindi non potevamo Assolutamente Lasciargli Il Lasciargli l'ultima carta Il gigante royale Cioè va bene Anche se ce l'ha Dice ok Può andare in paccio Però è relativamente Allora Arco X di partenza Arco X è una carta Molto rognosa In questi mazzi Si usa tantissimo Anche in competitiva L'XBow si usa tantissimo Ho visto Si usava Adesso non so Però mi ricordo Che molto spesso La gente si lamentava Di trovarli Perché in realtà Sono dei mazzi Difficili da usare Andiamo con una lightning Praticamente subito Vabbè ragazzi È un replay Però Non giocare in live La dodicesima Era da folli Cioè ve lo dico Quindi Il replay Alla fine Rende giustizia Alla partita in sé Che basta Che voi comunque La guardiate E capiate un po' Come si è svolta Alla fine L'importante è quello Secondo me Capire un po' Come si è svolta La partita Nel frattempo Sistemiamo un po' La webcam Perché sono troppo alto Ok Perfetto Così è molto meglio Allora Ripartiamo con un gigante Noi abbiamo gigante Mongolfiera E Cimitero Che è un'ottima combo Ok In questo caso Cimitero va a torre Sul royal Lui praticamente Mi aveva più ilisire Perché mi aveva lanciato Un gigante royal Quindi in questo modo Andiamo a torre In un modo spaziale In un modo incredibile E ragazzi Qui praticamente Abbiamo la partita in mano Basta giocare con testa E la partita è vinta Lanzo un arco X Quindi mi va ancora Sotto di ilisire Non ho capito Il perché di questa mossa Lo giuro Quindi qui praticamente Ragazzi Mi consegna la vittoria in mano Abbiamo scintilla E scusatemi Mongolfiera sotto torre Che va a farmi due hit E si va a vincere 3 a 0 Perché questa vittoria 3 a 0 Dove ha sbagliato lui Secondo me Innanzitutto l'arco X Si può prendere Perché è una carta fortissima Però ragazzi L'arco X va usato Con Come vedete Qui adesso mi faccio vedere Lui ha il gigante royal E il golem Aveva il golem E il mastino Lui non me ne ricordavo Lui aveva la scintilla Vedi erano tutti Carte comunque pesanti Lui aveva il mastino Poi lui aveva lo scheletrone gigante Qui vabbè I propri scelti Non contano come carta pesante Però insomma Neanche come carta leggera Però io come carta pesante Intendo tipo il pecca In questo caso Non c'entra con Ah no Si che è una partita Della sfida Si Il pecca Qui il golem Prendono tutti 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 Carte pesanti E se voi Se siete voi A dargli carte pesanti Perché adesso vi spiego un'altra cosa Se siete voi A dargli il golem Non è un problema Perché voi sapete Che lui ha il golem Di conseguenza Prendete gli scheletrini Prendete qualche truppa Che faccia deviare il golem Cioè non è Se voi Non volete usare il golem Perché non vi piace Perché non siete in grado Di usarlo Perché come io Non sono capace Di usare il golem Però mi è capitato Di prenderlo Perché per non lasciarlo a lui Ma se voi volete lasciarlo Lui potete farlo senza problemi L'importante appunto È avere la torre infernale Il boscaiolo Che picchia forte Carte di questo tipo ragazzi Che riescano a fermare Un mastino E scusatemi Un golem O senza troppi problemi Uno scheletrone gigante Senza troppi problemi E riuscite a Insomma a vincere Questa sfida Strega Nottuna Ci sono ancora 18 ore di sfida Fatemi sapere Se voi l'avete vinta ragazzi Perché mi sembrava Allora Quando l'ho fatta ieri Mi sembrava molto più difficile Lo ammetto Perché giocavo senza criterio Giocavo praticamente A caso Cioè prendevo le truppe Che mi piacevano E non si fa Devi cercare di creare Un bazzo complementare Che abbia senso Altrimenti non fai altro Che perdere 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 E poi ti lamenti col gioco Come l'ho fatto io Mi sono lamentato col gioco Perché ho perso No è colpa mia Se ho perso Non è colpa del gioco Se ho perso Cioè adesso Non diciamo Cose stupide Va bene Script No script Ci mette col matchmaking Ok va bene Ma se uno perde Di base È 99% colpa sua Quindi Parliamoci chiaro Ragazzi La strada notturna È con noi Le abbiamo tutte Abbiamo tutte Le carte 73 su 73 A breve Vabbè Daranno La comune Che troveremo Al primo punto Che troveremo Io ragazzi Vi saluto e vi ringrazio Perché da Piazza è tutto Un saluto Ragazzi Mi dimentico sempre di dirvelo Quindi purtroppo Mi tocca metterlo alla fine Non lo vedrà nessuno Ragazzi Io il 15 giugno Dalle ore 14 Alle ore 18 18-19 Anche Quindi dalle 2 Ai 7 di pomeriggio Sarò in Piazza Duomo A Milano Quindi Piazza Duomo A Milano Dalle 2 Alle 7 Di sera Circa 6 e mezza 7 Ci sarà una sorta di ritrovo Che farò Sarà molto bello Secondo me Perché apriremo i bauli Faremo le mie chevoli Ci sfideremo Andremo a fare un giro per Milano Comunque Secondo me sarà una cosa interessante E divertente Ci sarà appunto Ve lo ripeto Il 15 giugno Dalle 2 Alle 6 e mezza Alle 7 Dipende Poi si può anche cenare insieme Se qualcuno si vuole dilungare un po' di più Quindi ragazzi Io direi che vi invito tutti a venire il più possibile Purtroppo lo sto dicendo alla fine Quindi nessuno vedrà questa cosa Perché avete già tutti chiuso il video Anzi Siete arrivati fin qua Scrivetemi qualcosa Tipo Milano Io capirò Gli altri non capiranno Ma io capirò Ragazzi Ci vediamo a Milano Il 15 giugno Da Piazza È tutto davvero Un salutone E ciao